Vita della Beata Maria Candida dell'Eucaristia, nella stanza del mio cuore, continuazione, comunione eucaristica. Ho fatto sempre con raccoglimento la santa comunione. Molto presto lasciai di servirmi del libro per fare il ringraziamento e a poco a poco cominciai a intrattenermi intimamente con Gesù. Egli mi dava sentimenti ed affetti anche conformi al mistero che ricorreva nella liturgia del giorno e la mia mente e il mio spirito si sollevavano a lui. Ora conto le ore nell'attesa della santa comunione. Penso che l'amore suo infinito aspetti con impazienza il momento di unirsi alle nostre anime. Perciò gioisco come una bambina del tempo che scorre lesto lesto. Mi sembra che egli patisca nella sua prigionia, tanto è grande e amorosa la sua impazienza. Si strugge, volerebbe al mio misero cuore. E allora, senza nemmeno pensare a ciò che dico, mi trovo a consolarlo dal ritardo che gli imponiamo con le nostre pigrizie e nostri temporeggiamenti. Povero Gesù, hai ragione. Pazienza per tutti e due. Mancano poche ore. Dopo ci uniremo. Il tempo scorre veloce. Coraggio. Un giorno alla sacra menza occupavo il secondo posto. Quando il sacerdote alzò la particola per lecce Agnos Dei, guardai Gesù pensando che quella particola non era per me. Invece, con mia grande sorpresa, vidi il sacerdote porgere a me Gesù, anziché regarsi al primo posto. Certo, da parte sua sarà stata una distrazione. Ma quanto a me vi scorsi un atto amabilissimo di condiscendenza, di tenerezza, di predilezione da parte di Gesù. Anche comunicarmi giornalmente mi sembra troppo poco. Dover attendere ventiquattro ore per unirmi di nuovo a Gesù. Io adoro quello che la Chiesa dispone, ma quale felicità se ci si potesse comunicare più di una volta e anche nelle ore pomeridiane. Gesù mi ha fatto un grande onore facendomi sperimentare tanto amore e tanto desiderio per l'eucaristia. Presa da questo amore, ho pensato con gioia che in cielo mi è destinata per la santa comunione. Non capisco cosa ciò significhi, ma tante volte in uno sfogo spontaneo ed amoroso, gli ripeto sospirando, tu mi hai fatta per te nel sacramento. Quando Gesù è esposto nella santa ostia sull'altare, passo la maggior parte del tempo in silenzio con gli occhi fissi a lui. Non si dice tutto così? Vivo è il cuore ed è così che parla, anche quando mi affliggi la distrazione pur in mezzo a una moltitudine di pensieri vani. Io sento la dolcezza, l'attrazione forte. Gesù mi accosta di più il suo cuore ed il mio è così pieno di lui da sentirmene ebbra. Quanto, mia cara, quell'ostia scuote tutte le fibre del mio povero cuore. Ho negli occhi una gran sete di contemplarla. Vorrei accecare guardandola. Non mi stancherei mai. A volte la rimiro in spirito, come quando per obbedire posai per la fotografia fissa in spirito gli occhi dell'ostia divina. Ai piedi dell'altare durante il divin sacrificio, specie quando le comunioni sono numerose, cerco di seguire con gli occhi l'ostia santa. Dagli occhi la tirerei nel cuore. Le vorrei tutte per me. Mi sembra di bere attraverso gli occhi una fiumana di candore. Vorrei che l'ostia santa restasse nel mio cuore come in uno stensorio. La mia anima vibra per il desiderio di prenderla, di possederla, per sempre, per sempre. Nei miei dolci trasporti a volte mi sento piena di lui. Mi struggo e penso con desiderio al cielo, dove mi sarà dato di passeggiare eternamente con Gesù nei campi eterni. E nel bisogno che ho di attirarlo nel mio cuore, sospiro, Dio mio, fatti piccolo perché ti possa attirare dentro di me. A questo mio menso bisogno vedo che corrisponde perfettamente l'amoroso bisogno dell'infinito Signore che, nella sua carità, si degna di abbassarsi fino alla terra, fino all'uomo, per cercarlo, per sposarsi e la sua natura, per restare con lui nell'eucaristia. Mi è sembrato che Gesù rimarrebbe volentieri nel mio cuore vivo. È vero, come nell'ostia santa, senza mai consumarsi. Ho fatto questo patto con Gesù bambino e mi è sembrato che lui dolcissimo attivenga. Una volta ciò mi avvenne proprio sensibilmente. Avevo per anima il bambino Gesù. Durò per poco, poi non più. Era il 1916. Gesù è il tutto. Quando l'ostia divina si è posata sulla mia lingua, io sento benissimo che mi è stato dato il tutto. Sento di possedere il tutto. Una notte, testandomi suavemente proprio come una bambina svegliata da un bacio amoroso, mi trovai con lo spirito sollevato a Gesù e, pensando alla comunione del giorno dopo, sentire la mia anima e il mio cuore immensamente dilattati, vuoti di ogni cosa nell'attesa di lui. Vieni Gesù, vi è posto solo per te, gli dico spesso. Oh, dolcissimo figliolo di Maria, vieni, vi è posto per te solo. Non voglio che te per la mia anima. Per le mie potenze, per i miei sensi è la mia carne. Scrutami tutta e vedi se c'è in me altra cosa, altro desiderio che non sia per te. Se trovi una fibra che non sia tua o che a te non piace, strappala forte, fa presto. Queste cose le dico a Gesù con affetto profondo, specie dopo la santa comunione. Quando sta in me e mi fa sperimentare la sua presenza e il suo amore, e poiché è venendo a me nell'eucaristia, mi comunica a se stesso e si associa alla mia carne, oso chiamarlo carne mia, corpo mio, Gesù. Toglimi il cuore, l'anima e al loro posto sostituisciti tu realmente. Trasporta in te il mio essere, sì tu il mio corpo. Lo sento fin anche nelle braccia quando viene a me. Si spande per tutto il mio essere. Allora con l'Apostolo Giovanni sussurro sorridendo, è il Signore. E con la Santa Vergine Agnese gioisco. Il suo corpo e il mio sono unificati. Il suo sangue errore colorisce le mie guance. Sono sposata a Lui, la cui bellezza il sole e la luna rimirano. È più che unione, è fusione. Una volta mi parve che tutta andassi a mescolarmi col mio Dio. Non si capisce più chi è Gesù e chi sono io. Noi siamo due amanti, appassionati. Siamo due amanti pazzi, sì. Gesù siamo pazzi tutti e due. Infatti non si può capire come io vorrei medesimarmi con Gesù e anche Lui è folle d'amore, vuole unirmi a sé, prendere tutto il posto, occuparmi tutta, unificarmi tutta a sé. Io capisco Gesù, certo non come realmente ama, ma spinta dalla confidenza, gli ho insegnato cosa farei io al suo posto per soddisfarmi nell'amore. Se io fossi al tuo posto e avessi una bambina che mi ama tanto, la prenderei tutta nel mio cuore. Mi delizierei a consumarla, a liquefarla in una volta sola, per amore. Poi la prenderei e la terei tutta per me nell'eternità. Una volta mentre mi preparavo a riceverlo, mi parve che dal tabernacolo mi giungesse la sua voce. Aprimi. Aprì il libricino che avevo fra le mani quasi a trovarvi una conferma e vi trovai la stessa parola. Aprimi. Non ebbi più dubbio che fosse Gesù, amantissimo a parlarmi, e fui pronta a rispondergli che gli aprivo tutta la mia anima. Lui, il padrone, vi poteva entrare. Per quello che Gesù opera nel mio interno, mi è sembrato di avere dentro il petto una gemma splendente con i suoi luci di raggi, oppure un piccolo coccetto di braccia. Una volta, stando raccolta dopo la santa comunione, a ringraziare Gesù sentì come un sottile raggio passarmi il cuore. Dapprima non vi posi importanza, sembrandomi un fatto fisico, ma si ripete ancora e tanto a lungo che mi sembrò di svenire. Mi abbandonai fra le sue braccia, presa dal cumulo di finezze e di delizie del suo folle amore. E, dicevo così, ma quanto mi è caro lasciargli fare in me quello che vuole. Con la sua grazia darei tutto il mio sangue pur di amarlo di più. Altra volta andata a visitare Gesù, ebbi l'impressione che egli mi prendesse dentro il tabernacolo, sulle sue ginocchia e mi colmasse di tante carezze. Vi furono delle coincidenze fra certe miatroci pene, la malattia e la morte della mamma, e quelle tenerezze nuove di Gesù. Quanto è buono il suo cuore trabocca di conforto nelle pene che egli stesso versoversa nei nostri cuori. Dalla sua tenerezza io mi sentivo felicemente costretta, legata a Lui per la vita e per l'eternità. Mi sentivo proprio legare, come da un'amorosa fune, con giri sodi, con nodo forte per sempre. Talvolta piango, perché questa ineffabile e dolcissima unione della Santa Comunione vorrei restarla, farla crescere ancora di più. È certamente una grande follia la mia, che oso pretendere io da Gesù. Non so dirlo, eppure penso che egli sorride e si compiace. Anche se le brame così profonde del mio cuore non potranno avere appagamento su questa terra, sono sicura che Gesù mi appagherà ad avanzo. Perché Gesù, perché è uno sposo singolare, Egli ha il potere di appagarmi completamente nell'eternità. Una domenica fui sola alla sacra menza. Sentivo tutta la felicità di quell'azione che saziava la mia fame. Mi sorprese un fatto nuovo. Mi parve che Gesù venisse in me come un occhiero lieto e amoroso dell'anima mia e si mettesse alla guida di essa. Pensai che finalmente volesse dirigere la mia barchetta verso il porto del cielo. Voglio lasciarmi guidare da Gesù ad occhi chiusi. Affido a Lui tutta la mia barchetta. E sono certa che non solo non mi lascerà naufragare, ma la guiderà a gonfie vele verso la meta, la santità, il cielo. A volte sceso, sacramentamente nella mia anima, si è compiaciuto di farla tanto bella rivestendola di sé stesso. E se Lui immerge il mio cuore nel mare luminosissimo della sua anima divina, chi potrà più ricordare che la mia anima fu macchiata, spoglia, miserabilissima. Se Gesù vuole rendermi bella, ricca, degna di sé, basta un istante alla sua misericordia. Io ho inteso la sua divina interna operazione e mi sono vista tanto pura, tanto bella per Lui. Gli ho detto allora, non vedi come sono bella? Ora sì che puoi mangiare l'anima mia. Bevila tutta, mangiami e dammi la vita. Vedo tutte mie le sue ricchezze, la sua infinita purezza. Egli me ne riveste. Tutto quello che è di Gesù è mio. Il Padre Celeste non ricorderà più quella che fui, ma si compiacerà di guardarmi come Gesù mi ha fatta.